Ben tornati su meteogliacci.it. Quella di martedì sarà una giornata di tregua con prevalenza di bel tempo, sebbene già in serata si avvicinerà una nuova perturbazione, la numero 4 di giugno che poi mercoledì porterà un nuovo peggioramento del tempo al centro nord. In realtà fino a venerdì dovremo fare i conti con il passaggio di diverse perturbazioni che determineranno diverse fasi piovose e temporalesche, sebbene non mancheranno ampi spazi di sole. Perturbazioni seguite da aria più fresca che quindi manterranno le temperature ovunque al di sotto dei 30 gradi con valori fino a 4-6 gradi al di sotto delle medie stagionali. In particolare la giornata più fresca sarà quella di giovedì quando i termometri non supereranno i 26 gradi da nord a sud. Ma occupiamoci intanto della giornata di martedì con la grafica della previsione che ci mostra un'assoluta prevalenza di bel tempo, a parte un po' di nuvolosità sulle zone alpine e sul Veneto, con qualche acquazione su Alpi orientali, Romagna, Coste Marchigiane e Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature queste non subiranno grandi variazioni, avremo ancora massime per lo più comprese tra 23 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 gradi al centro in Sardegna, tra 25 e 29 gradi al sud con le ultime punte di 30 gradi sulla Sicilia meridionale. Quindi un clima fresco accentuato tra l'altro da venti che si faranno sentire in tutta Italia, venti di Bora sull'Alto Adriatico e di Maestrale su tutti gli altri mari. E con questo concluso non mi resta che ringraziarvi dell'ascolto e augurarvi ancora una buona giornata.